Per effettuare un acquisto sul nostro sito è necessario prima registrarsi, inserendo i propri dati personali, un indirizzo email corretto e uno password. Dopodiché è anche possibile scendere di ricevere le nostre offerte ed accettare l'iscrizione al newsletter per restare sempre aggiornato su tutte le nostre novità. Una volta scelto il prodotto interessato possiamo selezionare la quantità desiderata ed aggiungerlo al carrello tramite il pulsante blu. E' possibile anche aggiungere un prodotto alla lista dei preparati per procedere all'acquisto poi in un secondo momento. Una volta riempito il carrello possiamo procedere alla fase d'acquisto. Dopo aver inserito i propri dati personali e l'indirizzo di spedizione possiamo anche scegliere un indirizzo di fatturazione differente compilando il campo azienda, partita IVA e alias. A questo punto possiamo scegliere il nostro metodo preferito per la fatturazione elettronica se necessario. Dopo aver scelto il metodo di spedizione che preferiamo possiamo proseguire scegliendo il metodo di pagamento. Per confermare l'ordine è necessario prima accettare il pulsante accetti termini e condizioni di servizio e procederti lì all'acquisto finale. Grazie per la visione!